Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Betalanine. A cosa serve? Betalanine più ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per lo sport. È commercializzato in Italia dall'azienda Piovata SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Piovata SRL. Concessionario. Piovata SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per lo sport. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Betalanine più 90 capsule. Modalità d'uso. 4 capsule prima dell'allenamento, 2 nei giorni di riposo, per 3-4 settimane. Descrizione e caratteristiche. Integratore alimentare di I-alanina, ideato per limitare gli effetti dell'acido lattico nei muscoli, garantendo un miglioramento della performance sportiva, sia in sforzi di tipo aerobico che misto aerobico barra anaerobico. I-alanina. La betaalanina, con la L-istidina, entra nella composizione della carnosina che ha in grado di inibire, almeno in parte, gli effetti dell'acido lattico sui muscoli e, quindi, sulla performance. L'assunzione di betaalanina ha l'unico sistema per aumentare i livelli di carnosina a livello muscolare. Infatti la somministrazione diretta di carnosina si è dimostrata inefficace in quanto scarsamente assorbita a livello gastroenterico e degradata da enzimi specifici a livello circolatorio. Avvertenze. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Ingredienti. Componenti per 1 dose, 4 capsule. I-alanina 2G. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.